Abbiamo visto come una particella, lo stato di una particella, può evolvere nel tempo. Abbiamo visto in un video che l'evoluzione di uno stato è governata da un operatore di evoluzione temporale, l'operatore U, e abbiamo capito come questo operatore soddisfa ad una certa equazione differenziale del primo ordine, l'equazione di Schrödinger per l'operatore di evoluzione temporale, e avevamo capito il problema della dinamica. Oggi vogliamo completare il discorso cercando di capire che cosa succede ai valori attesi, alla dispersione, alle variabili reali. E cominciamo da uno stato alfa. Supponiamo che io ho uno stato alfa. E se io ho uno stato alfa al tempo t uguale 0, io riesco a trovare lo stato alfa al tempo t, moltiplicandolo, cioè applicando adesso l'operatore di evoluzione temporale U di t. U di t applicato ad alfa al tempo 0 mi dà alfa al tempo t. Questo è lo stato alfa al tempo t. Ora, le quantità che a noi ci interessano in meccanica quantistica, quelle che misuriamo, sono i bracket. I bracket, vi ricordo, sono oggetti fatti in questo modo. c'è un bra, un certo vettore, ad esempio beta, c'è un certo operatore qui, x, e poi qui c'è un altro, c'è un get. Questa quantità, che prende il nome di bracket, vi ricordo, formalismo introdotto da Dirac, questa è una quantità reale, è un numero. Questo qui appartiene ad R o a C. Può essere anche complesso, qui diciamo appartiene a C. Adesso prendiamo un certo operatore B, un osservabile. B è un operatore che corrisponde ad un osservabile fisico, cioè qualcosa che noi possiamo misurare, energia, posizione, impulso e così via. E ci calcoliamo il bracket di alfa con questo operatore, con questo osservabile. Ora, questa quantità, vi ricordo, questa qui è il valore medio di B sullo stato alfa, al tempo, supponiamo, al tempo T uguale a 0. Che cosa sarà mai questo valore medio al tempo T? Cioè, che cos'è questa quantità? Che cos'è? Allora, è facile convincersi che, se io mi ricordo che, vedete, questo qui si ottiene applicando l'operatore di evoluzione temporale allo stato alfa al tempo T0, quindi ottengo alfa al tempo T, ora io posso sostituire qui, proprio dove compare questo stato alfa al tempo T, la sua definizione attraverso U. Però qui, ovviamente, c'è il bra. Questo qui è il bra, mentre questo qui è il cat. E quindi qui io devo sostituire il bra di questo, che sarà alfa, bra, naturalmente, al tempo T0, U croce di T, poi qui ci sarà B, e qui naturalmente U di T per alfa. E qui si osserva subito che questo qui è alfa bra, al tempo T, e questo qui è alfa cat, al tempo T. ma adesso mi ricordo che, se per caso alfa coincide con uno degli auto cat dell'hamiltoniano, uno stato stazionario, allora io mi ricordo che, e vale l'equazione naturalmente agli autovalori, vi ricordo che H applicato ad uno dei suoi auto cat, mi dà l'autovalore moltiplicato per l'auto cat. E quindi, e che cosa succede qui? Qui succede che, se io calcolo il valore medio sugli auto cat dell'operatore B, sugli auto cat, allora U, che cosa diventa? Diventa E alla E alla IHT su H barrato, questo qui è il coniugato, quindi qui c'è, c'è più B, poi qui c'è E alla meno IHT su H barrato, e qui c'è E con N. Qualcuno ha fatto cadere una popola Poi, questo qui, ovviamente, quando l'operatore di evoluzione temporale, che è questo qui, vedete, e questo è il suo ermitiano coniugato, agisce sul cat e sul bra, che cosa succede? Succede che qui avrò E con N, E alla I autovalore, vedete, E con N, T su H barrato, poi qui rimane B, e qui c'è E alla meno I, E con N, T su H barrato, E con N. Ma adesso vi siete accorti subito che questi oggetti sono dei fattori di pass, sono dei numeri, e quindi ovviamente, vedete, c'è una, qui c'è I e qui c'è meno I, o meglio, c'è un esponente e qui c'è lo stesso esponente negativo, quindi questi due esponenziali, naturalmente, che cosa fanno? Diventano, diventano 1. E quindi questo qui diventa E con N, B E con N. Cioè che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che il valore medio di uno stato stazionario, il valore medio di un qualunque operatorio osservabile, su uno stato stazionario, ad esempio l'energia, la posizione, e così via, è costante. Non cambia, è sempre lo stesso, vedete? Al tempo T è uguale a 0, qui stiamo supponendo che α è uno stato stazionario, uno degli auto ket dell'hamiltoniano. E al tempo 0 è questo qui, al tempo T è lo stesso, è identico, e quindi non cambia, rimane lo stesso. Cioè anche il valore medio rimane stazionario qualunque sia la scelta dell'operatore P. Ora possiamo quindi capire invece che cosa succede se α è uno stato generico. Se α è generico, allora le cose sono più complesse. Quello che possiamo però supporre è che α sia esprimibile come combinazione lineare di auto ket della mettoniana. Se questo succede, allora qui, ad esempio, c'è il coefficiente di Fourier, qui c'è il generico auto ket, se così succede, cioè che α è uno stato al tempo T uguale a 0, naturalmente, e che si esprime come combinazione lineare di auto ket della mettoniana, cioè vale l'equazione agli autovalori su h, cioè h applicato ad un auto ket ci dà l'auto valore moltiplicato per l'auto ket, allora che cosa succede? Succede che quando io applico l'operatore di evoluzione temporale al mio stato, allora io lo sto applicando, questo operatore di evoluzione temporale, lo sto applicando ad una combinazione lineare, cioè lo sto applicando ad una somma su n di che cosa? Di c con n e con n. Quindi, se io voglio studiare il valore medio al tempo T, cioè come evolve il valore medio al tempo T del mio generico operatore osservabile B, allora questa volta dovrò sostituire, vedete, è questa definizione qui, tutta questa qui, la dovrò sostituire qui dentro, che vi ricordo che questo qui è α al tempo 0 U croce di T B U di T α al tempo 0. E quindi, ora qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostituire questo, il coniugato di questo, al posto di questo qui. Questo qui che cosa sarà? Sarà U croce di T sommatoria su n di C con n coniugato per il bra di T con n. Poi qui c'è P, poi qui c'è P, e qui ci sarà U di T sommatoria, devo cambiare indice, ovviamente, cm, cat e con n, autocat. Adesso facciamo un po' di ordine, facciamo un po' di ordine e scriviamo somma su n, c con n coniugato per l'operatore, o meglio il bra e con n, per l'operatore di evoluzione temporale coniugato, che sarebbe E alla I H T su H barrato, poi qui c'è B, poi qui c'è somme su M di C con M, operatore U diretto, che sarebbe E alla meno I, H T su H barrato, cat e con M. A questo punto mettiamo tutte le somme vicine, somme con n e con M, di C con n coniugato, C con M, e poi qui, quando, di nuovo, l'operatore agisce su uno degli autocat dell'amiltoniano, sia qui che qui, otteniamo questi numeri, questi fattori di fase, E con N, E alla I, E con N, T su H barrato, P, E alla meno I, E con N, T su H barrato, E con M, E con M. Adesso questi qui non possono andare via perché qui c'è N e qui c'è M, sono diversi. E quindi diventa così, diventa somma su N e su M di C, N coniugato, C M, E alla meno, alla I, E con N, T su H barrato, E alla meno I, E con M, T su H barrato, e poi qui c'è l'elemento di matrice rappresentativa dell'operatore dell'osservabile P, nella base degli autocat dell'amiltoniano. Vi faccio osservare che tutto questo qui è diventato il coefficiente di Fourier al tempo T, cioè adesso non è più stazionario, varia nel tempo. E questo conclude questa piccola lezione. iscriviti al nostro canale, iscriviti al nostro canale,